Housebed Audiobooks presenta Percy Jackson e gli dèi dell'Olimpo, il ladro di fulmini. Episodio 15. Capitolo 17. Facciamo shopping nel negozio di materassi ad acqua. Fu un'idea di Annabeth. Ci fece salire su un taxi di Las Vegas come se avessimo davvero i soldi per permettercelo. E poi disse all'autista, Los Angeles prego. Il tassista masticò il suo sigaro e ci soppesò con lo sguardo. Sono 200 chilometri, pagamento anticipato. Accetta le carte di debito dei casino, chiese Annabeth. Lui alzò le spalle. Dipende, come le carte di credito. Prima le devo strisciare. Annabeth gli passò la sua carta a Lotus Verde. Il tipo la guardò scettico. La strisci, lo invitò Annabeth. Lui lo fece. Il tassametro prese a vibrare. Le luci lampeggiarono. Alla fine, dopo il segno del dollaro, comparve il simbolo dell'infinito. Dopo che il sigaro gli fu caduto di bocca, il tassista si voltò a guardarci con tanto d'occhi. Da che parte di Los Angeles, di preciso, vostra altezza? Il molo di Santa Monica. Annabeth drizzò un po' la schiena. Capì che la storia della sua altezza le era piaciuta. Si sbrighi e potrà tenere il resto. Forse non avrebbe dovuto dirlo. Il tachimetro del taxi non scese mai sotto i 150 per tutto il deserto del Mojave. Lungo la strada avemmo un sacco di tempo per parlare. Raccontai ad Annabeth e Grover il mio ultimo sogno, ma più mi sforzavo di ricordarne i particolari, più si facevano vaghi. A quanto pareva il casino Lotus mi aveva mandato in cortocircuito la memoria. Non riuscivo a rievocare il suono della voce del servo invisibile. Anche se ero sicuro che si trattasse di qualcuno che conoscevo. Il servo aveva chiamato il mostro nel baratro in un modo diverso, oltre a mio signore. Aveva usato un nome... strano. Un titolo. Il silente? Suggerì Annabeth. Il ricco? Sono entrambi degli appellativi di Ade. Forse, risposi. Anche se nessuno dei due mi sembrava giusto. Quella sala del trono però somiglia proprio a quella di Ade, commentò Grover. E' così che di solito la descrivono. Scossi la testa. C'è qualcosa che non torna. La sala del trono non è stata la parte principale del sogno. E la voce del baratro... Non lo so. Solo che non sembrava la voce di un dio. Annabeth sgranò gli occhi. Che c'è? chiesi. Oh, niente. Stavo solo... No. Deve essere Ade. Forse ha mandato questo ladro, questa persona invisibile a rubare la folgore, e qualcosa è andato storto. Tipo cosa? Io non lo so, rispose lei, ma se ha sottratto il simbolo del potere di Zeus dall'Olimpo e aveva gli dèi alle calcagna, un sacco di cose potevano andare storte. Perciò, forse, ha dovuto nascondere la folgore, o magari l'ha persa. Comunque sia, non è riuscito a portarla ad Ade. Non è questo che ha detto la voce nel tuo sogno. Il tuizio ha fallito. Questo spiegherebbe cosa stavano cercando le furie quando ci hanno assalito sull'autobus. Forse, pensavano che avessimo recuperato noi la folgore. Non capivo cosa le fosse preso. Era pallida. Ma se avessi davvero recuperato la folgore, obiettai, perché starei andando negli inferi? Beh, per minacciare Ade, suggeri Grover. Per corromperlo o ricattarlo e farti restituire tua madre. Certo che sei sveglio per essere una capra. Ah, beh, grazie. Ma la cosa nel baratro ha parlato di due oggetti, aggiunsi. Se uno è la folgore, l'altro cos'è? Grover scosse la testa chiaramente disorientato. Annabeth mi guardava come se sapesse già cosa stavo per chiedere e volesse convincermi in silenzio a non farlo. Tu ti sei fatta un'idea sulla cosa che c'è in quel baratro, vero? Le chiesi. Cioè, nel caso in cui non si trattasse di Ade. Percy, lasciamo stare. Perché se non si tratta di Ade... No, deve essere Ade, per forza. Il deserto ci scorreva accanto in tutta la sua desolazione. Superammo un cartello che diceva Confine della California, 12 miglia. Ebbi la sensazione che mi stesse sfuggendo un'informazione semplice e fondamentale. Era come quando fissavo una parola che avrei dovuto conoscere, ma che non riuscivo ad identificare perché un paio di lettere continuavano a fluttuare sulla pagina. Più riflettevo sulla mia impresa, più mi convincevo che affrontare Ade non era la vera risposta. C'era qualcos'altro in ballo. Qualcosa di perfino più pericoloso. Ma il problema era che ci stavamo precipitando verso gli inferi alla velocità di 150 chilometri all'ora, puntando tutto sul fatto che Ade avesse la folgore. Se una volta giunti alla meta avessimo scoperto di avere torto, non avremmo avuto il tempo di correggere il tiro. La scadenza del solstizio sarebbe passata e sarebbe scoppiata la guerra. La risposta è negli inferi, mi rassicurò Annabeth. Hai visto gli spiriti dei morti, Percy? Ed esiste un solo posto in cui questo è possibile. Stiamo facendo la cosa giusta. Cercò di tirarci su di morale suggerendo una serie di ingegnose strategie per entrare nel regno dei morti. Ma io non riuscivo a seguirla con entusiasmo. Le incognite erano troppe. Era come sgobbare per un compito in classe senza conoscere l'argomento. E credetemi, era una cosa che avevo già fatto a sufficienza. Il taxi sfrecciava verso ovest. Ogni folata di vento nella Valle della Morte suonava come uno spettro. Ogni volta che sentivo fischiare i freni di un autotreno, pensavo al sibilo serpentesco di Echidna. Al tramonto, il taxi ci scaricò sulla spiaggia di Santa Monica, che era identica alle spiagge californiane dei film, tranne che per il tanfo. C'erano giostre sul molo, palme lungo i marciapiedi e barboni che dormivano sulle dune di sabbia. E ovviamente i surfisti, in attesa dell'onda perfetta. Ci avvicinammo alla riva. E adesso, chiese Annabeth, il Pacifico si stava tingendo d'oro alla luce del tramonto. Pensai all'ultima volta in cui ero stato sulla spiaggia di Montauk, sulla sponda opposta del paese, a scrutare un altro oceano. Come poteva esistere un dio che controllava tutto questo? Cosa diceva sempre il mio professore di scienze? Due terzi della superficie terrestre erano coperti d'acqua. Come potevo essere il figlio di qualcuno di così potente? Entrai con i piedi nel mare. Percy, mi chiamò Annabeth, che cosa stai facendo? Continuai a camminare, con l'acqua che arrivava fino alla vita, poi fino al petto. Lei mi gridò dietro. Sai quant'è inquinata quell'acqua? C'è ogni genere di rifiuto tos... In quel momento immersi la testa. All'inizio tratteni il fiato. È difficile costringersi a ispirare sott'acqua. Alla fine però non ce la feci più ed aprì la bocca. E come già era successo, riuscì a respirare normalmente. Mi dirassi a largo. Non avrei dovuto vederci bene fra le tenebre. Eppure, riuscivo a scorgere tutto. Percepivo la superficie ondulata del fondale. Distinguevo le colonie di ricci che punteggiavano la sabbia. Riuscivo perfino a vedere le correnti. I flussi d'acqua calda e fredda che roteavano insieme. Qualcosa mi struscia alla gamba. Abbassai lo sguardo e per poco non schizzai come un missile in superficie. Era uno squalo maco, un bestione di un metro e mezzo di lunghezza. Ma non mi stava attaccando. Mi strofinava il muso contro, seguendomi come un cagnolino. Esitando, sfiorai la sua pinna dorsale. Lui arcò leggermente il dorso, come per invitarmi a stringere. Afferrai la pinna con entrambe le mani e lo squalo si slanciò in avanti, trascinandomi con sé nell'oscurità. Mi depose poi sul bordo di una fossa oceanica, dove il banco di sabbia terminava in una voragine enorme. Era come stare sull'orlo del Grand Canyon a mezzanotte, senza vedere nulla ma con la consapevolezza del vuoto. La superficie scintillava oltre 40 metri sopra di me. Sapevo che la pressione avrebbe dovuto schiacciarmi, ma del resto non avrei dovuto nemmeno essere capace di respirare. Mi chiesi se ci fosse un limite alla profondità a cui potevo accedere. Chissà se potevo immergermi fino a toccare il fondo del Pacifico. Poi vidi brillare qualcosa nell'oscurità. Qualcosa che si fece sempre più grande e luminoso man mano che saliva e si avvicinava. La voce di una donna, come quella di mia madre, mi chiamò. Percy Jackson? Ormai poco distante, la sua figura diventò più nitida. Aveva capelli fluenti e neri e indossava un abito di seta verde. Era circondata da un alone di luce tremula e i suoi occhi erano di una bellezza così sconcertante che notai a malapena il cavalluccio marino. O meglio, lo stallone marino che stava cavalcando. Smontò dalla sella. Il cavalluccio marino e lo squalo guizzarono via e sembrava che stessero giocando a rincorrersi. La donna subacquea mi sorrise. Sei arrivato lontano, Percy Jackson. Bravo. Non sapevo cosa fare, perciò mi inchinai. Lei è la donna che mi ha parlato nel Mississippi? Sì, figliolo. Sono una nereide, uno spirito del mare. Sai, non è stato facile apparire così lontana dal mare. Ma le Nayadi, le mie cugine d'acqua dolce, hanno sostenuto la mia forza vitale. Loro onorano il divino Poseidone, anche se non servono alla sua corte. E lei serve alla corte di Poseidone? A noi? Erano passati molti anni dall'ultima nascita di un figlio del dio del mare. Ti abbiamo osservato con grande interesse. Ad un tratto, ricordai i volti che intravedevo da bambino fra le onde, a largo di Montauk, riflessi di donne sorridenti. Come per molte altre assurdità della mia vita, non ci avevo mai badato troppo prima di allora. Se a mio padre interesso così tanto, chiesi, perché non è qui? Perché non parla con me? Una corrente fredda si levò dagli abissi. Non giudicare troppo duramente il Signore del Mare, mi rispose la Nereide. Si trova sull'orlo di una guerra non voluta. Molte questioni occupano il suo tempo. E poi, lui non può aiutarti direttamente. È proibito. Gli dèi non possono fare favoritismi. Nemmeno verso i propri figli? Soprattutto verso di loro. Gli dèi possono operare solamente tramite influenza indiretta. Ecco perché io ti porto un avvertimento e un dono. Tesi la mano. Tre perle bianche lampeggiarono nel suo palmo. Sono a conoscenza del tuo viaggio verso il regno di Ade. Disse. Pochi mortali lo hanno compiuto e sono sopravvissuti. Orfeo, che aveva una grande dote musicale. Ercole, che aveva una grande forza. Udini, che riusciva a liberarsi perfino dagli abissi del Tartaro. E tu? Possiedi questi talenti? No, signora. Ah, ma tu possiedi qualcos'altro, Percy. Hai dei doni che hai appena cominciato a conoscere. Sai, gli oracoli hanno predetto un futuro grandioso e terribile per te, se dovessi giungere all'età virile. Ma tranquillo. Poseidone non permetterà che tu muoia prima che sia venuto il tuo tempo. Perciò prendi queste. E quando ti troverai nel bisogno, getta una perla ai tuoi piedi. E cosa accadrà? Questo dipende dal bisogno. Ma ricorda, ciò che appartiene al mare, al mare farà sempre ritorno. E l'avvertimento? Un bagliore verde guizzò nei suoi occhi. Segue il tuo cuore o perderai tutto. Ade si nutre del dubbio e della disperazione. Lui cercherà di ingannarti. Ti spingerà ad obitare del tuo giudizio. Quando sarai nel suo regno, non ti lascerà mai andare di sua spontanea volontà. Ma tu abbi fede. Buona fortuna, Percy Jackson. Richiamò il suo cavalluccio marino e ripartì al galoppo negli abissi. Aspetti! Gridai. Su al fiume, mi ha detto di non fidarmi dei doni. Quali doni? Addio, giovane eroe. Devi ascoltare il tuo cuore. Mi gridò lei di rimando mentre la voce si affievoliva nell'abisso. Diventò una baluginante macchiolina verde e infine scomparve. Avrei voluto seguirla. Avrei voluto visitare anch'io la corte di Poseidone, ma alzai lo sguardo e vidi il tramonto che si scuriva in superficie. I miei amici stavano aspettando. E avevamo così poco tempo. Mi slanciai con uno scatto verso la costa. Tornato sulla spiaggia, i vestiti mi si asciugarono addosso in un attimo. Raccontai agli altri cosa era successo e mostrai loro le perle. Annabeth fece una smorfia. Ogni dono ha un prezzo. Ma questo è gratis. No, scosse la testa. Nessuno dà niente per niente. È un vecchio detto greco che si traduce molto bene nella nostra lingua. Ci sarà un prezzo da pagare. Aspetta e vedrai. E con questa felice considerazione voltammo le spalle al mare. Con qualche spicciolo prelevato dallo zaino di Ares, prendemmo un autobus diretto a West Hollywood. Mostrai all'autista la bolla di accompagnamento con l'indirizzo degli inferi che avevo preso all'Emporio di Ziaem. Ma lui non aveva mai sentito parlare degli studi di registrazione RIP. Mi ricordi qualcuno che ho visto in tv? Mi disse. Sei un attore per caso? Io... No, faccio la controfigura per un sacco di ragazzini del cinema. Oh, ecco! Lo ringraziamo e scendemmo subito alla prima fermata. Vagammo a piedi per chilometri. Alla ricerca dei RIP. Nessuno sembrava sapere dove fossero. Nell'elenco del telefono non comparivano neanche. Per due volte fummo costretti ad infilarci in un vicolo per evitare un'auto della polizia. Poi davanti alla vetrina di un negozio di elettrodomestici... Per poco non mi venne un colpo. Una tv accesa stava mandando in onda un'intervista con qualcuno dall'aria molto familiare. Ma era il mio patrigno, Gabe il Puzzone. Parlava con Barbara Walters. Neanche fosse una celebrità. Lei lo stava intervistando nel nostro appartamento, nel bel mezzo di una partita a poker. Seduta accanto a lui, c'era una biondina che gli faceva coraggio con dei colpetti sulla mano. Sulla guancia di Gabe luccicava una lacrima finta. Stava dicendo... Onestamente, signora Walters, se non fosse per il sostegno di Miss Sugar, la mia terapeuta per il superamento del dolore, sarei uno straccio. Il mio figliastro si è preso quanto di più caro avessi al mondo. Mia moglie. La mia Camaro. Mi dispiace, ma... Non ci riesco. Ecco America. Barbara Walters si voltò verso la telecamera. Un uomo distrutto. Un adolescente seriamente disturbato. Lasciate che vi mostri di nuovo l'ultima fotonota di questo giovane ricercato, scattata a Denver una settimana fa. Sullo schermo comparve una foto sfocata di me e Anna, Bette Grover, fuori dal ristorante in Colorado, mentre parlavamo con Ares. Chi sono gli altri ragazzi nella foto? Si chiese Barbara Walters in tono drammatico. Chi è l'uomo con loro? Chi è Percy Jackson? Un delinquente? Un terrorista? O la vittima di uno spaventoso nuovo culto che l'ha sottoposto al lavaggio del cervello? Dopo la pubblicità, parleremo con un rinomato psicologo infantile. Resta con noi, America. Andiamo! Mi incitò Grover trascinandomi via prima che sfondassi la vetrina con un pugno. Si fece buio e vari personaggi dall'aria affamata cominciavano ad uscire in strada pronti ad entrare in scena. Ora, non fraintendetemi. Sono di New York. Non sono uno che si spaventa facilmente. Ma Los Angeles dava una sensazione totalmente diversa rispetto alla grande mela. A casa, tutto sembra vicino. Per quanto la città sia grande, arrivi dappertutto senza perderti mai. Il reticolo stradale e la metro, almeno lì hanno una logica. C'è un sistema alla base delle cose. Un ragazzino è al sicuro, a meno che non sia proprio stupido. Ma a Los Angeles non è così. È tentacolare, caotica, intricata. Mi ricordava Ares. Non le basta essere grande, deve dimostrare la sua grandezza essendo anche chiassosa, impossibile e labirintica. Non sapevo proprio come avremmo fatto a trovare l'ingresso degli inferi entro il solstizio d'estate, ovvero entro un giorno. Superammo balordi, barboni e venditori di ogni genere che ci squadrarono con aria scaltra, come per valutare se valesse la pena rapinarci. Davanti all'ingresso di un vicolo, una voce nel buio disse Ehi voi. E io come un idiota ovviamente mi fermai. Prima che me ne rendessi conto, fummo circondati da una banda di ragazzini. Erano sei in tutto. Dei ragazzini bianchi con vestiti costosi e la faccia cattiva. Mi ricordavano quelli della Yenzi. Marmocchi pieni di soldi che giocavano a fare i duri. Distinto tolsi il cappuccio a vortice. Quando la spada comparve dal nulla, arretrarono. Ma il loro capo era molto stupido oppure molto coraggioso, perché continuò a farsi avanti con un coltello a serramanico in mano. Commisi l'errore di sferrare un colpo. Il tipo gridò, ma doveva essere mortale al cento per cento, perché la lama gli oltrepassò il petto senza lasciargli un graffio. Abbassò lo sguardo. Ma che diavolo! Con un rapido calcolo intuì che avevamo all'incirca tre secondi prima che lo shock si trasformasse in rabbia. Scappiamo! Gridai ad Annabeth e Grover. Togliamo di mezzo due della banda con una spinta e ci precipitammo in strada senza sapere dove andare. Svoltammo bruscamente in un vicolo. Laggiù! Esclamò Annabeth. Solo un negozio dell'isolato sembrava aperto. Le vetrine sfolgoranti di luci al neon. L'insegna sopra la porta diceva qualcosa tipo Da Crusty la reggia d'leatmo sacdua. Da Crusty la reggia del materasso ad acqua! Tradusse Grover. Non era il genere di posto in cui sarei mai entrato, a meno che non fosse proprio un'emergenza, ma quella decisamente lo era. Ci precipitammo all'interno e corremmo a nasconderci dietro un letto. Mezzo secondo più tardi, la banda di ragazzini passò di corsa davanti alla vetrina. Penso che li abbiamo seminati, disse Grover con il fiato grosso. Una voce dietro di noi tuonò Seminato chi? Sobalzammo per lo spavento. Alle nostre spalle c'era un tizio che somigliava ad un rapace con un completo casual indosso. Era alto almeno due metri ed era totalmente calvo. Aveva la pelle grigia, ruvida, gli occhi delle palpebre spesse e un sorriso freddo, da rettile. Si avvicinò lentamente, ma ebbi la sensazione che avrebbe potuto muoversi molto in fretta se solo lo avesse ritenuto necessario. Con quel completo avrebbe fatto un figurone al Casino Lotus. Risaliva decisamente ai gloriosi anni settanta. La camicia era di seta a motivi Kashmir, lasciata per metà aperta a scoprire il petto glabro. I risvolti della giacca di velluto erano larghi come piste d'atterraggio e le catene d'argento che portava al torno al collo non riuscivo nemmeno a contarle. Sono crasti, si presentò con un sorriso giallo tartaro. Ci scusi per come siamo entrati, gli dissi. Stavamo solo dando un'occhiata. Vuol dire che vi stavate nascondendo da quei poco di buono, rettificò. Girano da queste parti tutte le sere. Mi arriva un sacco di gente grazie a loro. Che ne dite di dare un'occhiatina ai miei letti? Stavo per dire no grazie, ma lui mi mise la sua grossa zampa su una spalla e mi spinse all'interno del salone. C'era ogni genere di letto che si possa immaginare. Tutti ovviamente muniti di un materasso ad acqua. Diversi tipi di legno, diverse fantasie di lenzuola, di taglia grande, grandissima e colossale. Questo è il mio modello più popolare. Crusty allargò le mani, mostrando con orgoglio un letto coperto di lenzuola di raso nero, con delle lava lamp incassate nella testiera. Con il materasso che vibrava sembrava un budino al petrolio. È come il massaggio di un milione di mani, ci spiegò Crusty. Coraggio, provatelo. Fatevi un sonnellino, non è un problema, tanto oggi non c'è nessuno. Ehm, obiettai, non credo che... Il massaggio di un milione di mani! Esclamò Grover e si tuffò. Oh ragazzi, è forte! Mmm, disse Crusty accarezzandosi la pelle ruvida. Quasi quasi. Quasi cosa? Chiesi. Lui guardò Annabeth. Fammi un favore, dolcezza, prova quello laggiù dovrebbe andare. Annabeth replicò. Ma cosa? Lui la rassicurò con delle lievi pacche sulle spalle e l'accompagnò davanti al modello Safari Deluxe, con dei leoni scolpiti sul telaio in tecche e una trapunta leopardata. Quando Annabeth si rifiutò di stendersi, lui la spinse. Ehi! Protestò lei. Crusty schioccò le dita. Ergo! Dai lati del letto spuntarono delle corde sferzanti che si attorcigliarono attorno ad Annabeth, legandola al materasso. Grover cercò di alzarsi, ma le corde spuntarono anche dal suo letto di raso nero, immobilizzandolo. Non è forte! Gemette la voce che vibrava per via del massaggio da un milione di mani. Non lo è per niente! Il gigante guardò Annabeth, poi si girò verso di me e sorrise. Quasi in maledizione. Io cercai di allontanarmi, ma la sua mano schizzò in avanti e mi strinse attorno al collo. Diamine ragazzo, non preoccuparti. Te ne troveremo uno in un secondo. Lasci andare i miei amici! Oh, sicuro lo farò. Ma prima devo aggiustarli. In che senso? Tutti i letti sono lunghi esattamente un metro e ottanta, vedi? I tuoi amici sono troppo bassi. Devo aggiustarli. Annabeth e Grover continuavano a divincolarsi. Non sopporto le misure imperfette, borbottò Crusty. Ergo! Una nuova serie di corde balzò fuori dalle testiere e dai piedi dei letti, avvolgendosi attorno alle caviglie e alle ascelle di Grover e Annabeth. Le corde cominciarono a tendersi, tirando i miei amici per le estremità. Non ti preoccupare, mi disse Crusty. È solo uno stiramento. Sette o otto centimetri in più sulla spina dorsale. Potrebbero anche sopravvivere. Ora, perché non troviamo un letto anche per te? Che ne dici? Per sì! Gridò Grover. Stavo ragionando in fretta. Sapevo di non potercela fare da solo contro quel venditore gigante. Mi avrebbe spezzato il collo prima ancora che fossi riuscito ad estrarre la spada. Il suo vero nome non è Crusty, vero? Chiesi. Legalmente è Procuste. Ammise. Lo stiratore! Aggiunsi. Ricordavo la storia. Il gigante che aveva cercato di uccidere Teseo con un eccesso di ospitalità durante il suo viaggio verso Atene. Già. Ma chi se lo ricorda un nome del genere? Una cosa pessima per gli affari. Crusty invece funziona molto meglio. Ha ragione. Suona proprio bene. Gli brillarono gli occhi. Lo pensi davvero? Oh, assolutamente, ribadì. E la fattura di questi letti è favolosa. Il gigante fece un largo sorriso, senza però allentare la presa sul mio collo. È quello che dico ai miei clienti tutte le volte. Nessuno che si prende mai la briga di osservare la fattura. Quanti letti con lavalampi incassate nella testiera hai mai visto? Non molti. Esatto. Percy? Strillò Annabeth. Che stai facendo? La ignori. Consigliai a procuste. È solo una rompiscatole. Crusty rise. Come tutti i miei clienti. Mai che misurassero un metro e ottanta esatto. Che sconsiderati. E poi si lamentano se devo dargli una giustatina. Che cosa fa se sono più lunghi di un metro e ottanta? Mi liberò il collo, ma prima che potessi reagire, allungò il braccio dietro un bancone vicino e tiro fuori un'enorme ascia di bronzo a doppio taglio. Centro il soggetto il più possibile e mozzo tutto ciò che sporge alle due estremità. Ah, feci io deglutendo. Mi sembra ragionevole. Finalmente un cliente con un po' di cervello. Ne sono lieto. Le corde adesso cominciavano a stirare i miei amici davvero troppo. Annabeth era sempre più pallida. Grover gorgogliava come un'oca strangolata. Allora, Crusty. Continuai cercando di mantenere un tono spensierato. Lanciai un'occhiata alla targhetta del letto Luna di Miele Special. A forma di cuore. Questo qui ha davvero degli stabilizzatori dinamici per fermare il movimento ondulatorio? Assolutamente, provalo. Sì, forse lo farò. Ma funziona anche con un tizio grande e grosso come lei? Neanche un'onda. Garantito. Impossibile. Possibile. Si sedette con entusiasmo sul letto dando dei colpetti con la mano al materasso. Neanche un'onda, visto? Schioccai le dita. Ergo! Le corde avvilupparono Crusty e lo schiacciarono contro il materasso. Ehi! Centratelo al punto giusto. Ordinai. Le corde si regolarono al mio comando. La testa e i piedi di Crusty sporgevano per intero dalle due estremità. No! Gridò. Aspetta, era solo una dimostrazione! Tolsi il cappuccio a vortice. Mmm. È solo qualche piccola modifica. Non avevo scrupoli riguardo a quello che stavo per fare. Se Crusty fosse stato umano non l'avrei ferito. Se invece era un mostro, meritava di polverizzarsi per un po'. Mi vuoi prendere per il collo? Mi disse. Facciamo così, ti faccio il 30% di sconto sui modelli più esclusivi. Penso che comincerò dall'alto. Sollevai la spada. Senza anticipo! Senza interessi per i primi sei mesi! Abbassai la spada. Crusty smise di fare offerte. Tagliai le corde degli altri letti. Annabeth e Grover si rimisero in piedi senza smettere di lamentarsi, contorcersi e insultarmi. Sembrate più alti, considerai. Molto divertente! Sbuffò Annabeth. La prossima volta datti una mossa. Guardai la bacheca dietro il bancone di Crusty. C'era una pubblicità del Corriere Espresso di Hermes. E un'altra della nuova edizione completa dell'indirizzario mostruoso di Los Angeles. Le uniche pagine gialle mostruose di cui avrete mai bisogno. Sotto ancora c'era un vivace volantino arancione degli studi di registrazione RIP, che offriva audizioni per le anime degli eroi. Siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti. L'indirizzo dei RIP era scritto sotto, con tanto di mappa. Muoviamoci, dissi ai miei amici. Dacci ancora un minuto, si lamentò Grover. Siamo stati quasi stirati a morte. Allora siete pronti per gli inferi, annunciai. Sono soltanto a un isolato da qui. Grazie per aver ascoltato e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!